Cari amici telespettatori, benvenuti, non siamo anche prima di puntata, naturalmente e quest'oggi ascolteremo tantissime cantoni insieme, naturalmente perché mi sembra ora lo vedrai in differita questo video poi caricato perché ci sono stati problemi con la diretta e quindi passiamo subito alle canzoni, partendo da c'è da spostare una macchina di 30 spostati? Oh sì! la macchina, venga fuori qualcuno che da sopra non ce la posso farcela, e vada. La macchina è là, venga fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori. Non è nessuno, la fica fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori fuori, venga fuori, venga fuori, venga fuori fuori. Grandissimo successo, ruotato 1978. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.